Il mio papà, il mio papà è un tipo sano, mi prende in braccio con una mano, mi guarda e senza dire niente riesce a capire cosa ho in mente. E quando mi senti dalle sue braccia dalla paura non c'è più traccia e quando capita che mi allontano con un basso veloce mi prende la mano. Ma ora ho capito come lui fa, perché il mio anzù per il papà ha il potere più forte che c'è, è l'amore che trova per me. Buona festa del papà!